Ciao ragazzi, bentornati su Giugissima e benvenuti ad un nuovo blog in cui vi porterò con me in una giornata di studio, lavoro, vita che spero sarà produttiva e spero che questo blog vi motivi a dedicarvi a tutte le attività alle quali dovete dedicarvi con passione e con amore per quello che state facendo e allo stesso tempo per trovare il tempo per altre attività, sono semplicemente attività che vi piacciono e attività che vi mettono di buon umore. La mattinata è iniziata come sempre con una buona tazza di caffè, uno sguardo al bullet journal e un po' di tempo dedicato alla lettura. Mi sono poi messa una maschera nei capelli che avrei tenuto qualche ora per fortificarli e poi mi sono dedicata la mia space repetition routine al computer, qui in particolare sto riguardando alcuni appunti che ho preso su Notion e cercando di richiamarli alla mente prima di guardare il contenuto degli appunti e poi sto creando alcune flashcards per quei concetti specifici che non riesco a fissare nella memoria. Ho poi iniziato un nuovo libro non fiction e ho dedicato ancora un bel po' di tempo alla lettura. Grazie a tutti. Finito di leggere mi sono presa cura dell'inbox della mia email del lavoro dello studio legale in modo da poter identificare tutti i tasks rilevanti per la giornata, poterli scrivere e organizzare il mio tempo. Fatto ciò ho seguito una lezione online di diritto dei contratti. e poi per muovermi un po' e mantenere le buone abitudini ho fatto un po' di esercizi di pilates e ho concluso il mio workout con un po' di stretching e yoga. Mentre attendevo l'inizio di una riunione in videoconferenza con i miei colleghi dello studio legale ne ho approfittato per sistemare gli appunti che avevo preso durante la lezione di diritto sui contratti e di inserire alcune informazioni rilevanti che ho trovato sul libro. Ho poi avuto una serie di riunioni con i miei colleghi per le quali mi sono dovuta preparare e poi ho preparato bozze di alcune comunicazioni ed altri atti legali. Visto che era una giornata bellissima, nella pausa pranzo ho deciso di andare a fare una camminata intorno ai laghi di Copenaghen. E dopo una power walk di 5 km sono tornata a casa per pranzo. Ho panno di segale, salmone, uovo, dei pomodorini e poi penso che prenderò ancora qualcos'altro. E poi siccome ho ancora un pochino di fame, un pochino, mangio un po' di yogurt islandese, si chiama skür ed è molto ricco di proteine, è considerato molto salutare in Danimarca con delle mandorle e questo è al gusto vaniglia quindi è come mangiare un dolcino. Eccomi qui per un piccolo aggiornamento, è un po' più tardi nel pomeriggio, dopo mangiato mi sono fatta la doccia, sistemata, ho dedicato una mezz'oretta alla cura personale mentre ascoltavo ancora Persuasione di Jane Austen, mi manca un capitolo alla fine quindi lo finirò oggi e poi ho finito di filmare un video che uscirà domani e adesso ho una riunione online con il mio capo dello studio legale quindi ho ancora un po' di lavoro da fare e alle 3 inizierò un Live Study With Me con voi che durerà ben 4 ore quindi studieremo insieme dalle 3 fino alle 7. Ed eccoci arrivati al Live Study With Me numero 10 in cui abbiamo studiato insieme per ben 4 ore e durante il quale io mi sono dedicata ad un capitolo di diritto dei contratti, diritto privato e finendo quel capitolo ho finito una grossa sezione del libro e sono pronta ad iniziarne una nuova e poi ho fatto una simulazione d'esame, un parere di diritto civile, ho preparato tutta la scaletta e ho risolto il parere ma non l'ho scritto perché ciò avrebbe richieduto troppo tempo e infine mi sono dedicata a procedura civile e ho letto e schematizzato tre capitoli. Grazie a tutti! e per cena abbiamo mangiato un ottimo pesce con broccoli e patate al forno che mi ha restituito le energie dopo le fatiche dello studio Come dessert ci siamo concessi un paio di datteri a testa accompagnati da una tazza di tè Per concludere la giornata di studio ho finito di ripetere procedura civile in base alla mia space repetition routine Ho finito di ripetere procedura civile quindi per oggi ho finito del tutto con lo studio La ripetizione è andata abbastanza bene ma comunque ripeterò di nuovo tutto domani in modo da consolidare bene le mie conoscenze Per il resto della serata devo dedicare un pochino di tempo a youtube perché devo finire un paio di cose per il video che uscirà domani e domani dovrò anche finire di fare un po' di editing per quel video lì e per un altro video Quindi troverò il tempo di farlo E poi il resto della serata sarà dedicato alla lettura E a proposito di letture vi devo aggiornare perché ho finito di leggere L'assassinio del commentatore di Murakami Che mi è piaciuto moltissimo Ho finito il secondo libro In realtà sono solo due libri Avevo detto che erano tre ma sono soltanto due E quindi ho finito tutta la storia Sono molto felice di averlo letto Mi è piaciuto tantissimo E poi oggi ho anche finito di ascoltare Persuasione di Jane Austen Ho la versione fisica del libro ma in realtà l'ho ascoltato poi come audiolibro Mi è piaciuto molto E poi stamattina invece ho iniziato a leggere questo libro qui The Subtle Art of Not Giving A F Del quale vi parlerò molto molto presto in un video Che uscirà in realtà prima di questo qui Quindi quando vedrete questo vlog saprete già di che cosa sto parlando Ed è un libro di sole 200 pagine E ne ho letto a circa metà stamattina Perché è molto molto scorrevole Quindi penso che stasera leggerò un po' più di questo Però devo scegliere altri due libri Quindi un audiolibro perché ascolto sempre un audiolibro E un libro fiction E come libro fiction quindi di narrativa Ho scelto Seta di Alessandro Baricco Perché ho già provato, ho già sperimentato prima Con Murakami seguito da Baricco E mi piace molto diciamo l'effetto che fa un libro dopo l'altro Perché Baricco mi aiuta a rimanere un po' nell'atmosfera surreale Ma tornando un pochino alla realtà È una giusta via di mezzo tra Murakami e il suo surrealismo E degli autori che parlano un pochino di più di vita reale Quindi inizierò questo libro qui stasera E poi devo scegliere un audiolibro Penso che stasera farò un po' di browsing E poi deciderò, vi farò sapere presto quello che ho scelto Come anticipato ho iniziato a leggere Seta di Alessandro Baricco E mi sono resa conto che in realtà era un libro molto breve E quindi di fatto l'ho letto tutto durante la serata Quindi in questo clip vedrete me che leggo questo libro Dall'inizio alla fine, dalla prima all'ultima pagina E quindi in realtà è già ora di scegliere un altro libro fiction da leggere E' stata quindi una giornata molto produttiva E mi ha fatto immensamente piacere portarvi con me Mi piace parlare con voi Anche se in realtà parlo una telecamera Però so che poi quando voi guardate i vlog Siete felici di guardarli Mi dite sempre che vi motivano Quindi mi fa molto piacere fare questi vlog Spero che si percepisca E come ho detto sono soddisfatta della giornata Ho fatto diverse cose Sono contenta, penso di aver avuto una giornata piuttosto equilibrata Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video E dei video di questo tipo Seguitemi su Instagram Come sempre su Instagram avete degli aggiornamenti un pochino di più In tempo reale rispetto a quelli su YouTube Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Mettete mi piace, tutte queste cose Io vi abbraccio forte Ci vediamo nel prossimo video Buona domenica Ciao!